cari amiche cari amici di rossini tv buonasera a tutti benvenuti una nuova puntata di check up obiettivo salute mi avete visto sul lettino perché io sono venuto oggi qui al centro fisioradi per una nuova puntata del nostro appuntamento con i medici specialisti di questa struttura di bismara perché avevo un po di mal di schiena ho incontrato il dottor ignazio borghesi un neurologo neurochirurgo specializzato proprio nei dolori derivanti dai problemi della colonna vertebrale mi ha subito dato questo disegno da lui autografato perché ci parlerà di spondilolistesi la spondilolistesi che è una patologia della colonna vertebrale che consiste nello scivolamento di una vertebra su quella inferiore eccoci qui a un nuovo incontro nella nostra serie dedicata alla medicina gli specialisti del centro fisioradi siamo con il dottore ignazio borghesi un neurochirurgo quindi è una branca della medicina molto molto particolare e parleremo di una patologia che definirla è quasi più difficile che capirla spondilolistesi l'abbiamo vista già disegnare un bellissimo foglio che ci potrà chiarire esattamente di cosa si tratta dottore allora la spondilolistesi per definizione lo dice la parola è uno scivolamento anteriore di una vertebra su quella sottostante in genere è un'evenienza che colpisce il 5 per cento della popolazione generale e aumenta tendenzialmente negli sportivi persone che fanno sollevamento pesi ginnasti sport traumatici come può essere anche il tennis hanno un'incidenza che può arrivare fino al 20 per cento rispetto a un 5 per cento della popolazione generale quindi c'è questo scivolamento di una vertebra sull'altra che non è da confondersi con l'ernia che è un'altra cosa si è tutta un'altra tutta un'altra questione l'ernia è una fuoriuscita di materiale viscale che è un cuscinetto interposto tra una vertebra e l'altra che nella condizione per esempio di una malattia degenerativa del disco può poi favorire lo scivolamento del della vertebra le spondilolistesi possono essere o dall'isi istimica che l'interruzione di una parte dell'articolazione superiore e inferiore che facilita poi lo scivolamento della vertebra su quell'altra e in genere è nelle persone più giovani diciamo sotto i 40 anni e poi c'è una spondilolistesi cosiddetta degenerativa che insorge proprio per la degenerazione del disco che come diceva come chiedeva lei prima è la degenerazione favorisce poi l'ernia del disco però sono due evenienze completamente separate e diceva un 5 per cento della popolazione però è una percentuale abbastanza altra che cresce in certi casi e quindi ci sarà proprio un'origine questi casi daranno origine alla spondilolistesi perché attraverso una sollecitazione attraverso questi traumi può succedere che si verifichi è proprio così cioè con l'invecchiamento della popolazione l'incidenza nelle persone anziali per esempio della spondilolistesi degenerativa che è una condizione che viene avanti proprio con l'età aumenta anche l'incidenza cioè la possibilità che nella popolazione più più avanti con l'età si possa riscontrare uno scivolamento di una vertebra che non necessariamente è sintomatica esatto infatti non necessariamente sintomatica e mi chiedevo ma allora se non è sintomatica come mi accorgo di avere questo questo problema molte volte uno fa una risonanza per esempio perché oggi la tendenza principale è quella di andare a fare una risonanza per fare degli altri accertamenti e ci si trova di fronte al riscontro occasionale di uno scivolamento di una vertebra sull'altra senza che il paziente magari non abbia mai manifestato un dolore alla schiena o un dolore in una gamba e quindi magari dall'oggi al domani ci troviamo con questo dolore improvviso fortissimo e magari senza neanche averlo potuto prevenire sì a volte può capitare proprio questo cioè la maggior parte delle volte il paziente trova uno scivolamento di una vertebra senza che nella sua storia naturale abbia mai manifestato una sintomatologia di lombalgia o di dolore in una gamba esatto invece quando questo si verifica quindi ci può essere anche un interessamento a quello che tante volte si dice sciatalgia no quando oddio mi fa male il nervo sciatico mi scende il dolore fino alla gamba non riesco a muovermi e molto probabilmente dipende proprio da questo da questo scivolamento della vertebra esattamente lo scivolamento della vertebra può portare a uno stiramento del nervo lo stiramento del nervo causa la cosiddetta sciatalgia un dolore che dalla schiena nasce a livello del tratto lombare e poi si irradia lungo la gamba fino ad arrivare al piede e chiaramente si diagnostica il neurologo lo riesce a diagnosticare con la sua esperienza o anche con degli strumenti sì nel momento in cui c'è un dolore alla schiena o un dolore nella gamba occorre fare degli accertamenti in genere può essere anche il medico di base a indirizzare il malato fare una semplice radiografia dalla semplice radiografia magari non vediamo se c'è un erne del disco però possiamo capire se c'è uno spostamento di una vertebra sia in avanti che indietro in questo caso chiamiamo retrolistesi ma in questo momento stiamo parlando delle degli scivolamenti anteriori della vertebra e tutto ciò si può curare immaginiamo sì la maggior parte delle volte basta una terapia conservativa perché il dolore alla schiena un dolore nella gamba spesso negli scivolamenti vertebrali è transitorio quindi una buona fisioterapia con della ginnastica posturale adeguata con degli allungamenti delle muscoli della muscolatura degli iliopsoasa degli ischio crurali può iniziare a favorire un benessere che può essere duraturo nel tempo senza per forza portare il paziente a una operazione oltre alla terapia fisioterapica siamo in grado di portare degli farmaci all'interno del canale vertebrale attraverso delle infiltrazioni per i vertebrali che con degli aghi molto sottili come può essere in un'anestesia spinale si può portare questo farmaco che in genere è del cortisone oppure un po' di anestetico locale lì dentro vicino al nervo per sfiammarlo e se per ipotesi io sono un tennista oppure solo uno che deve lavorare tante ore in piedi mi accorgo di avere qualcosina che non va ma continuo a lavorare la giocare a tennis chiaramente non sto facendo del bene a me stesso non fa del bene a se stesso però lei consideri che un grande giocatore come agassi ha sofferto per tutta la vita di uno scivolamento vertebrale e con delle iniezioni nel canale vertebrale è riuscito a giocare ad arrivare ad essere il numero uno del mondo ai suoi tempi quindi non è che è preclusa l'attività sportiva bisogna preparare la muscolatura di sostegno ai corpi vertebrali per fare in modo che le sollecitazioni così imponenti di uno sport così intenso come può essere il tennis non svilu non portino ad un dolore intenso per il paziente che diventa a volte insopportabile anche perché poi il tennis è il classico sport che si giocano anche avanti negli anni e quindi immaginiamo a sottoporre l'organismo a questo continuo sollecitazione negli anni che è forte anche persone in terza età di colpo potrebbero ritrovarsi questo fastidio questa patologia beh assolutamente è una delle cose più frequenti nell'età adulta è il mal di schiena almeno l'ottanta per cento della popolazione adulta ha avuto una volta nella vita un dolore lombare importante è chiaro che tutti i lavori usuranti gli sport usuranti favoriscono lo scivolamento di una vertebra perché il disco si ammala per traumi ripetuti non sostiene più il corpo sovrastante e facilita per via della gravità e di certa attività muscolare o di atrofia di alcuni muscoli per fare in modo che siano degli altri a prevalere lo spostamento verso in avanti di questa vertebra trascinando con sé magari una o più radici nervose con la conseguenza di una sciatica da una parte o da tutte e due le gambe dottor borghesi ma se per caso la fisioterapia la rieducazione non fossero sufficienti bisogna intervenire probabilmente metodi con metodi non diciamo più drastici ma più decisi la chirurgia sì quando la fisioterapia la terapia conservativa che può essere anche un semplice bustino oltre alla fisioterapia e la farmacologia è necessario intervenire con degli strumenti chirurgici che sono delle viti sono delle viti che noi inseriamo nei corpi vertebrali per permettere di richiamare la vertebra riportarla nel suo posto originario e al posto del disco mettere un disco artificiale le cosiddette cage che in genere sono in titanio e che favoriscono poi col tempo la fusione di uno o due corpi vertebrali che abbiamo già unito con delle viti e delle barre perfetto è stato davvero chiaro quindi ne sappiamo molto di più di prima tutti quanti sicuramente i telespettatori le saranno grati grazie davvero e buon lavoro buonasera e buonasera a tutti e buon lavoro buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti